Vi presento ora Blu e Xina, anche loro conigliariete, ognuna con il proprio carattere. Infatti Blu da sempre coccolona, cerca proprio il contatto e da quando l'abbiamo presa sembrava proprio che ci avesse scelto. Xina invece è arrivata un po' così, perché chi ci ha dato Blu ci aveva detto che Xina non la voleva nessuno, perché era super forastica. E quindi noi che abbiamo fatto ci siamo inteneriti e abbiamo preso anche lei, e ora sono inseparabili. Ora vi presento invece Anatre e Galline. Capolottina numero uno, Gertrude, la VIP del pollaio, Casinarra da morire, un po' Bulletta e anche la più vecchia di tutte. Dopodiché abbiamo la nostra Pollastrella Livornese, in compagnia del suo amatissimo Rocco, il nostro unico galletto al momento. Inutile dire che Lucilla sia la sua preferita, stanno sempre 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 insieme. Abbiamo poi qui una sfuggevolissima gallina di nome Mirtilla. Lei ci odia dal profondo del suo cuore, non si è mai fidata di noi, non penso che mai lo farà. Lei ama stare su questo trespolo e in qualsiasi posto sia lontano da me. Rocco ve l'ho già presentato, un bel galletto, fiero, ovviamente il re del pollaio. Da che è arrivata questa...